ciao ragazzi come state? spero tutto tutto benissimo allora io mi sono appena fatta lo shampoo quindi sono struccata e ho i capelli annodati, bagnati quindi adesso faccio un attimo skin care super veloce e poi vi faccio vedere i prodotti che uso per i capelli e mi asciugo i capelli con voi perchè è un video che a me ogni tanto piace portare come saprete quindi niente iniziamo come crema uso questa cera di cubra questa qua non mi fa impazzire nel senso si buona però preferivo quella della Sien l'ho presa quando non l'ho trovata ma ormai sta finendo e penso che ricomprerò quella di prima perfetto ma è l'unica che posso fare qui poi vado ad utilizzare il solito burro cacao e iniziamo con i capelli fatto questo applico il primo prodotto ovvero questo qua che sarebbe una crema per capelli si può usare sia con i capelli bagnati sia con i capelli umidi che con i capelli asciutti io la metto sempre dopo lo shampoo tipo adesso però capita ogni tanto che la metto anche con i capelli asciutti prima avevo quell'arancione ora ho comprato quella viola e mi piacciono entrambe quindi Grazie. Grazie. Fatto questo applico il termoprotettore, questo qui, e poi per asciugarmi i capelli cambiamo postazione perché qua sto troppo scomoda. Ok ragazzi, ci siamo spostati in camera mia, perché non l'ho fatto prima? Vi starete chiedendo voi? Non lo so, non ci ho pensato, va bene. Allora, adesso mi levo le cuffie e mi asciugo i capelli con questo phon che è nuovo, in teoria ha le varie testine, ma io non le metto. Stanno facendo i lavori accanto da me, ma spero che col phon non si sentano. Comunque, dopo aver asciugato i capelli, se mi va, le andiamo a piastrare un po' con questa mini piastra che mi hanno regalato in un negozio. E questa sera è il compleanno di mia sorella, quindi volevo essere un attimo più decente e poi mi trucco proprio poco 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 perché devo girare un video, quindi mi voglio un attimo sistemare. Ok, iniziamo. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, sono leggermente umidi ma sento caldo, anche se in realtà sono due giorni che fa veramente freddo. Adesso mi trucco così intanto si raffreddano e poi continuiamo ad asciugarli. Comunque, non so se vedete, però praticamente il viola è solo qui nelle punte, mentre qui sono un po' biondi e mi piacerebbe un sacco farli biondi. Ma spero che venga da sola questa cosa, non voglio andare dal porcchio, comunque vado a prendere il correttore che me lo sono scordata e mi trucco come ho acceso anche le ruccine dietro perché me le ero scordate. Allora, ah sì, mi sono messo gli occhiali, allora leviamo gli occhiali e metto le mollette, ovviamente rosa. Mi truccherò veramente super leggero, mi truccherò veramente super leggero, mi truccherò veramente super leggera, c'è tanto per farlo va. Iniziamo con il correttore di essence, ne metto poco poco poco, così. E direi basta perché non ho particolari imperfezioni oggi. Ok. E lo sfumo con la spugnetta. Comunque se sentite rumori o è traffico o come adesso è vento. Sono due giorni che piove, meno male, ovviamente, perché qua non piove mai. Però c'è già un freddo, veramente, ieri per scendere il cane avevo il maglioncino. Applico proprio poca 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 cipria. Cipria, giusto, sì. E lo applico col pennello. Sono tornata per un po' al pennello per ora che mi trucco poco. Poi per ora metto il blush con questo pennello che lo rende leggermente difficile perché se non lo faccio bene va proprio tanto blush, tanto macchia, non sfuma benissimo. Però poi l'effetto mi piace, quindi... Per ora lo metto con questo. Boh, secondo me non è tanto, va bene. Poi gli ultimi due passaggi. Questo lo metto solo nelle sopracciglia però anche perché da quando sono andata a mare ho avuto gli occhi molto irritati che è una cosa che mi capita spesso quindi per ora evito di truccarmi gli occhi. Ok. e per finire metto questo qua e basta questo è il trucco. Ovviamente per il compleanno mi truccherò un po' di più ma ancora è presto perché sono le 11 del mattino nel compleanno e a cena quindi mi cambierò ovviamente. Allora riprendo ad asciugare un po' i capelli e poi passiamo alla piastra anche se in realtà sono lisci però vabbè li riordiniamo un pochino. Allora riprendere un po' i capelli allora riprendere un po' i capelli e attacco la piastra che appunto mi hanno regalato in un negozio cioè in una farmacia l'ho regalata mia nonna l'ho usata per un po' però ora me l'ha regalata lei a me e cioè è carina alla fine non li divido a ciò che non faccio tutta quella roba cioè è proprio una cosa stra veloce a ciò che non faccio tutta la piastra che non faccio tutta la piastra a ciò che non faccio tutta la piastra a ciò che non faccio tutta la piastra è molto leggera quindi cioè cioè non brucia quindi si fanno tante passate perché altrimenti non piastra e poi almeno vi porto il suono della piastra ok dietro l'ho fatto e secondo me vanno bene ora che l'ho spenta vi faccio qualche visual trigger che è quello della piastra è il mio preferito ultimissimissimissima cosa metto questo spray che è un'acqua profumata per i capelli all'aloe e alla camomilla ok ragazzi questo video finisce qui vado a girare il prossimo quindi che uscirà venerdì io vi ringrazio di aver visto questo video fatemi sapere se vi piace questa tipologia se ne vorreste altro datemi consigli fate voi e detto questo io vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo di supportarmi tramite un mi piace un commento e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo venerdì con un prossimo video ciao buonanotte ciao ciao